La prossima arte di strada La prossima arte di strada Io lo vedo già, voi non lo vedete ma è dietro a lei Beatrice a casa si sta divertendo Sì Ecco E magari proverà anche lei a fare quello che stai per fare tu Facciamo entrare Paolo Scannavino Io mi sposterei così Paolo ti fa vedere le mosse Vieni, 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 guarda è semplicissimo Parti con due palline in una mano Dopodiché le segui e senti il flow Senti che girano E poi concludi con stile Tutte due A farle girare Scusate se vi ho malmenato Però è veramente Questa Aspetta Fammi rivedere un secondo Qualche anno di allenamento E vedrai che Tutto quanto torna Sì, devo tornare a rinascere E che tre non è naturale Con tre non viene bene Vuoi far provare con due? Sì, con due sì Riesco a farle girare Ma se vuoi Anche una sola È veramente un'arte Grazie Quindi il fatto è che questi professionisti qui lo fanno talmente tanto bene che sembra che si possa riprodurre quello che fanno Quanti anni sono che lo fai? No, non tantissimi nella trentina Grazie Paolo Grazie a voi E complimenti Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a tutti.